Moreno-Argentina ha vinto la dodicesima tappa a Rezzo-Livorno-Montenero di 214 km. Argentina ha ripetuto il successo di Cosenza, fuggendo questa volta da solo all'ultimo chilometro. La frazione non ha avuto molti episodi, salvo nel finale vivacizzato da numerosi tentativi di fuga. Nello strappo verso il santuario di Montenero, Saronni dava la sensazione di controllare la corsa con la sua squadra, ma Argentin sorprendeva tutti. Ecco l'ordine d'arrivo, primo Moreno-Argentin-Sammontana-Benotto, tempo 6 ore 9 minuti, 22 secondi, media 36-386. Secondo Saronni, Gis Campagnolo, terzo Mantovani, Onvet Bottecchia, quarto Prim Bianchi Piaggio, quinto Gavazzi, Magni Plexolmo. Poi Bortolotto, Schepmans e Demier, GB Baronchelli, Martinelli e tutto il gruppo dei migliori compatto. In classifica generale Saronni ha guadagnato altri 20 secondi con la buono del secondo posto, per cui ora precede in maglia rosa Claudio Bortolotto di 42 secondi, GB Baronchelli di 51 secondi, Vandi e Contini di 1 minuto e 9 secondi, Battaglini di 1 e 10, Prim di 1 e 24, Fux di 1 e 43, Visentini di 1 e 52, Broi di 1 e 53. Domani si corre la prima impegnativa frazione a cronometro, 35 chilometri da Empoli a Montecatini Terme.